Ispirato ed alacre, infaticabile nella sua opera al servizio della diocesi e della comunità religiosa di Trivento. La Fondazione Sant'Antonio di Padova ha intitolato una sala della struttura a Don Antonino Scarano, economo di quella diocesi scomparso lo scorso marzo. A margine della funzione religiosa, ufficiata da Monsignor Palumbo, la cerimonia in questione. Dunque la prima conoscenza che feci con Antonino rimonta intorno agli anni 84-90. Fu il periodo in cui al seminario regionale di Chieti avevamo amici seminaristi di Trivento e frequentavamo anche Trivento e uno in particolare apparteneva proprio a Santa Croce che allora Don Antonino guidava. E da lì poi ecco questa conoscenza, questa amicizia si è sempre più ingigandita nel tempo dandomi modo di notare veramente singolari doti di mente e di cuore di questo sacerdote. Aveva a cuore questa casa anche perché lui era la memoria storica di questa casa. Penso è stato nel Consiglio di amministrazione di tutti i presidenti che si sono succeduti da 40 anni a questa parte quindi sapeva vita, morte e miracoli. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Trivento, Domenico Santorelli, parente di Don Antonino. Oggi è la prima cerimonia diciamo ufficiale nel ricordo di Don Antonino, di Zio Antonino e averlo fatto qua in questo luogo dove lui per oltre 40 anni ha profuso tutto il suo impegno inorgoglisce e riempie di gioia perché noi possiamo testimoniare l'amore e l'affetto che aveva verso queste sue fan come diceva Solido nelle battute, verso queste persone che magari più di altre avevano bisogno e hanno bisogno di affetto.